Ok, amici, ora vi porto al piano di sopra. Seguitemi. Forza, ho tante cose da mostrarvi. Benvenuti nella mia camera da letto. Qui è dove avviene tutta la magia. E quando parlo di magia, ovviamente intendo le coccole che faccio ai miei cani. Se ancora non conoscete i miei cucciolotti, ve li presento ufficialmente. Questo è Teddy Kruger. Lui è davvero ben educato. E poi c'è TJ, che è un po' più indisciplinato. Ma è comunque dolcissimo. Io li amo alla follia, proprio come amo questo letto. Ciò che mi piace di Los Angeles è che ci sono viste panoramiche mozzafiato. Perciò, quando voglio guardare la tv, sposto la parete in questo modo. E così posso comunque godere del panorama. La trovo una soluzione davvero ideale. Venite. Ok, MTV, eccoci arrivati. Nella mia meravigliosa sala hobby. Qui ci sono diversi giochi, le freccette e persino una fantastica macchina per fare i pop corn. Ho anche organizzato una riunione di lavoro qui. È perfetta per fare affari. Pronto? Assolutamente no. L'elefante albino doveva arrivare in tempo. Non mi importa nulla della regina. Dille che hai altre priorità. Ascolta, devo andare. Ci sono gli amici di MTV Crips. A dopo, ma nel frattempo sei licenziato. Ciao! Scusatemi. Stavamo dicendo? Questo è per te, amore mio. Grazie. I bastoncini sono personalizzati con le mie iniziali e le ho fatte stampare anche sui tovaglioli. Quando abbiamo arredato casa, tra gli elementi a cui non avrei potuto assolutamente rinunciare, c'erano le luci al neon. Perciò ho deciso di farne realizzare una enorme con questo disegno. È la riproduzione di una foto che mi ha scattato mio marito mentre ero... Appoggiata qui, trovo che dia alla stanza quel tocco di eleganza che adoro. Gli hai già mostrato la sala cinema? No, andiamo insieme. Sì. Amiamo invitare qui i nostri amici. Questi divani sono comodissimi e assolutamente perfetti per guardare un film. Già. Ovviamente sono sempre stata una fan degli horror. Grazie. 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 Grazie.